Ora vedi io non ho fantasia proprio per nulla, stentai molto a capire che mi credevano un gran bugiardo e per la prima volta soffri molto, divenni una figura da burla, divenni, divenni il milione, ecco. Lo sa che ci fecero una maschera per il carnevale? Allora capì che Venezia stava perdendo il suo aroma di spezie, la sua dolcezza esotica stava diventando una città dura, sassosa e stranea. Imparai a tacere come Ulisse, mi accadeva di rivedere in sogno le mie città orientali e svegliarmi in quella mia patria estranea. Mi prendeva una smania, camminavo di notte e parlavo in tartaro, ma poi ci fu rustichello. Dovette essere una storia straordinaria, incredibilmente bella. Ci salvammo a vicenda. Lei lo sa, alla cursola io fui fatto prigioniero dai genovesi e gettato in carcere. Sembrava la fine della parabola per colui che aveva accompagnato una principessa alle nozze al rischio della vita. E fu la salvezza. Entro nella cella umida e senza luce e non riesco dapprima a vedere nulla. Poi una figura mi si fa incontro, ancora dolce e fantastico dopo dieci anni fra quelle mura. Rustichello. Era, era poco più di un cantastorie. Scriveva di Re Artù, della tavola rotonda, delle belle battaglie dei paladini. Scriveva dell'unicorno. Quando seppe che io l'unicorno l'avevo visto, sbarro gli occhi. Quando gli dissi che era un animale laido e sozzo, tacque un poco. E poi rise, rise molto. Come se quella fosse stata una bella burla. Io fossi un cantastorie più divertente di lui. Fu lui solo che prese a chiedermi. E che hai visto? E che c'era? E poi che facesti? E quella città com'era? Vede, io ero un deposito di leggende per lui. E lui, con quel suo cervello balzano, non aveva mai distinto molto bene vero e falso. Non gli interessava se quello che dicevo era così appunto o in altra guisa. Erano avventure. Era felice e ubbidiente. Come un fanciullo. Rustichello, quel povero ragazzo in prigione da dieci anni, la testa piena di paladini, era l'unico che poteva non solo credermi, ma capirmi. E mi insegnava a capire me stesso. Se, per indegno che fossi, ero della razza di Ulisse, di Sindbad, come potevo sperare di essere accettato se non da un falotico cantastorie. Quello che avevo vissuto era un poema epico. Anche se per straordinaria grazia di San Marco, io l'avevo vissuto e non solo sognato. Non capita spesso di vivere ciò che voi chiamate letteratura, ma una volta che ti capita, che pretendi? Di essere preso alla lettera, come io volevo da archivista. Capisce? Gli altri, le allegorie, i simboli, li fantasticano. A me era capitato di viaggiarci in mezzo. Fu così che nacque Emilione. Non fu solo una maschera, ma una favola epica. E oggi voi dite che fu verità. Maschera, leggenda, storia. C'è poi tanta differenza. E ora la maschera non mi offende più. Mi incanta. Un altro viaggiatore arrivato quassù qualche anno fa mi ha raccontato un'altra parte della mia storia. La parte che vivo non avrei mai potuto conoscere. C'è un'altra metà della storia? C'è. Ed oggi penso che sia quella che dà senso a tutto. Mentre io vagavo per le strade di Venezia parlando tartaro, Mentre dettavo in prigione il mio libro, Mentre conducevo verso la sua fine una vita disadorna e lenta, Lei si sposò. Lasci stare. Come sempre non ci fu amore. A lei non raccontai mai nulla. Ma ascolti. Mentre la mia vita si logorava e decadeva, Io, in quei luoghi lontani, diventavo, ecco, diventavo un Dio. Forse mi ero sdoppiato, forse mi ero diviso in un me stesso e un doppio, E mentre io credevo di essere uno sventurato, un fallito, Io ero una divinità. Durai secoli. Anche laggiù ebbi una maschera, un vestito, parte orientale, parte veneziano, Mantello e giubbetto. E lo si vede ancora. Se va a Bangkok, vada al tempio del Buddha sdraiato. Io sono lì, quattro volte, con quel mio costume, Alto due metri, il più alto di tutti. Capisce? Io sono stato un fallito, un pazzoide, Ma io non sono mai tornato a Venezia. E sto laggiù, in quei luoghi caldi e strani, E ho il mio trono. Io sono in prigione, ma io sono in una reggia. Io sono incatenato, ma io opero prodigi. Io ho detto veritiere meraviglie, Ma io sono una meraviglia, una favola. Lei, con chi crede d'aver parlato? Con il carcerato di Genova, o con il dio cinese? E vorrebbe che fossi io a dirglielo. Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Giorgio Manganelli con Marco Polo. Marco Polo era Paolo Bonacelli. Ulisse, Virginio Gazzolo. Regia di Sandro Sequi. Regia di Sandro Sequi. Regia di Sandro Sequi. Regia di Sandro Sequi. Grazie a tutti.